La Puglia da sempre si è contraddistinta per il suo grande spirito di accoglienza. Sin dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, infatti, i superstiti ebrei delle persecuzioni della Shoah hanno trovato nel territorio pugliese un luogo dove poter ricominciare dopo l'orrore della guerra. Rinascere in Puglia, il film documentario proiettato al Multicinema Galleria, su iniziativa del Consiglio regionale pugliese, racconta proprio l'esperienza vissuta da migliaia di profughi ebrei che passando nel Salento, dopo anni di sofferenze e tragedie, trovano finalmente un'accoglienza umana e calorosa. Le iniziative sulla memoria credo debbano avere l'obiettivo non tanto quello di ripetere ai ragazzi attraverso immagini, parole di cui hanno già sentito parlare o di cui sono stati bombardati non solo in questo periodo ma magari anche in altri periodi del loro anno scolastico. Credo che una didattica sana della memoria debba avere come obiettivo il compito di scavare su noi stessi, scavare dentro noi stessi, perché la memoria non deve essere appunto un esercizio mnemonico ma deve essere un modo per indagare nelle coscienze degli uomini. La Puglia è stata coinvolta in una delle pagine più drammatiche della storia europea del XX secolo. I docenti universitari di grande valore furono sospesi dall'insegnamento, furono costretti ad andare via dall'Italia. Ma la persecuzione degli ebrei continuò con i campi di concentramento che furono istituiti in tutta la Puglia, dalle Tremiti ad Alberobello, a Gioia del Colle, a Manfredonia. La Puglia fu liberata nel 1943 e qui inizia una pagina estremamente positiva che oggi consente di spiegare agli studenti, ai docenti, il lungo percorso non solo della liberazione ma anche del ritorno alla vita.